Cercando di ricordarmi i tasti bianchi dei tasti neri, cosa? Quelli neri sono quelle scuri Brava, giusto Ah ok, adesso che? Adesso che ti arrivo in una... Vai Jack Ok? Vai Jack Hai pictures allora? Sì Cosa ho nel culo? C'è anche un pannarallo nel culo? Era la cosa che mi faceva incispicare le dita Pannarallo nel culo? Non è bello allora Ah sì No Ok 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 Grazie a tutti Grazie a tutti Grazie a tutti Grazie a tutti Vuoi essere il mio miglior amico? Ok, così Perché mi piace il fatto di lei 1, 2, 3 Grazie a tutti 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 Grazie a tutti